Ben ritrovati per una nuova puntata di Password. Oggi abbiamo in studio il presidente della provincia di Avellino, Domenico Biancardi. Presidente, ben ritrovati. Grazie a voi e grazie ai telespettatori che sono qui a sentire le nostre parole. Presidente, sono quattro mesi. Novembre, marzo, quattro mesi che lei guida la provincia di Avellino. Possiamo fare un piccolo bilancio di questi mesi? Il bilancio lo sto per preparare. Perché va a cadere proprio con questa occasione delle previsioni programmatiche che si conciliano con il bilancio. Per cui io tra fine mese e prima settimana di aprile approveremo questo bilancio che è importante. Dove ci sono le linee programmatiche che io ho esposto nel primo consiglio provinciale. E quindi cominceremo a vedere le cose che io ho in mente per la provincia di Avellino. Lei ha in mente di distribuire le deleghe oppure è una cosa che non sta valutando al momento? Come no? Sì, credo a breve, brevissima. Soltanto ho avuto un impedimento di natura non mia ma di qualche amico consigliere provinciale. Per cui credo entro fine mese provvederò anche all'assegnazione delle deleghe. Notizia recente è appunto un'avvertenza che poi è andata a buon fine, che è quella del riassorbimento del personale che era assegnato alla regione Campania e appunto quello del delegato ai musei, alle biblioteche e quant'altro. Capitolo chiuso? Capitolo chiuso con una forzatura da parte della provincia, però noi abbiamo un problema. Il problema delle province in genere della regione Campania è la delega alla cultura. Noi siamo l'unica provincia e l'unica regione in Italia a non avere delega della cultura assegnata alla regione Campania. Quindi è un problema importante questo che purtroppo ha determinato questa modifica del Rio, la mancata attribuzione della delega alla cultura, quindi alla provincia, ha determinato che i responsabili della parte culturale e biblioteche in questo settore nello specifico non si sapeva insomma chi erano stati assegnati, se dipendevano dalla regione o dipendevano dalla provincia. Abbiamo fatto uno screening per quanto riguarda il personale, abbiamo ritenuto insomma di tenerli in capo alla provincia con grande entusiasmo anche da parte loro, anche perché il programma sottoscritto in riferimento alla promozione territoriale, la cultura, la digitalizzazione, insomma di tutto quello che abbiamo in provincia di Avellino è forte e io ho bisogno di loro. Sbaglio oppure comunque gli stipendi non gravano sulle casse provinciali? No, non gravano sulle casse provinciali, no, soltanto la dipendenza sul piano del personale è un costo che viene girato dalla regione Campania e noi lo attribuiamo ai dipendenti. Ad oggi quant'è il personale in totale in forza alla provincia? Ma sono circa 11 unità e su queste 11 unità noi addirittura... Lavorare così è un po' difficile? Eh sì, è difficile, non hanno un responsabile del procedimento, loro, e invece noi stiamo alla ricerca e credo a breve individueremo anche un responsabile dove possiamo puntare per l'organizzazione di questo settore che è importante e quindi c'è una bella previsione, un bel interesse su questa vicenda e troveranno la provincia sempre al fianco perché nella visione provinciale noi vediamo lo sviluppo di questo settore che per noi è molto importante, strategico per l'Irpinia e dobbiamo investire molto e in questo bilancio noi troveremo le linee guida che io già ho avanzato in consiglio, ma troveremo poi i fatti concreti che si tramutano ovviamente in posizione economica e noi su questo noi dovremmo investire. Ampiamente tra un po', intanto sempre per andare in ordine, recente anche la sua elezione al presidente del Lupi Campania, quindi congratulazioni. In questa fase comunque dove le province sono state svuotate poi nei fatti, la sua strategia di rilanzo. Allora, io ho espresso all'Upi regionale, ai presidenti e ai responsabili e delegati dei vari consigli provinciali, ho espresso loro il mio programma per Avellino Città, il mio programma per l'Irpinia e ho chiesto loro piuttosto di avere un'adesione rispetto a quelle che sono le nostre prerogative e la nostra visione, che non è una visione solo provinciale, è una visione regionale, per cui su questa mia programmazione e di dare soprattutto attenzione alle aree interne, su questa mia proposta ho trovato l'adesione dei vari presidenti, dei delegati e quindi loro hanno scelto me per portare avanti questo programma. Su questo io ho lanciato anche la proposta del primo congresso regionale dei consigli provinciali della regione Campania, che si terrà nella prima settimana di maggio ad Avellino e quindi noi inviteremo ovviamente tutti i consiglieri provinciali, i presidenti delle province e il presidente della regione Campania, il presidente Lupi nazionale ed un costituzionalista in riferimento anche alla modifica della Del Rio, perché è in commissione una modifica. Su questo noi abbiamo intenzione di chiedere anche al presidente Luca di attribuire alle province della regione Campania questa delega sulla cultura. Noi ci teniamo molto perché la promozione del nostro territorio non si lega soltanto ai prodotti tipici, ma si lega alla cultura, all'espressione dell'assistenza dei servizi che noi dobbiamo offrire ai visitatori, non ai turisti. Noi stiamo allo 0,8% a livello regionale dei visitatori che arrivano dall'area costiera che arrivano qui in Irpinia e quindi siamo ad una percentuale che è da vergogna rispetto alle tante cose belle che noi abbiamo in Irpinia. Quando la regione non presta attenzione a quello che noi abbiamo nelle aree interne, allora siamo noi che ci dobbiamo far ascoltare dalla regione Campania e questo lo possiamo fare anche... De Luca la ascolta? Ad esempio sul traforo del Partenio che in realtà è collegata poi a una visione di turismo e infrastrutture collegate al turismo. Io dico questo De Luca, io sono convinto che ascolta e sta ascoltando e proprio perché ascolta e sta ascoltando ha una preoccupazione credo De Luca è quella di non far parlare molto il presidente della provincia di Avellino. Quindi se io parlo da sindaco ho un effetto, se parlo da presidente della provincia credo di rappresentare un altro effetto diciamo per la nostra provincia. Quindi io non voglio polemizzare su nulla ma voglio collaborazione e voglio però risultati. Quindi noi metteremo in campo in questa programmazione tutto quello che noi abbiamo come parte economica che possiamo investire. Ecco, rasentando anche la delega che noi oggi abbiamo. E quindi questo lo faremo. Noi ci manca una piattaforma tecnologica dinamica dove noi possiamo inserire la nostra Irpinia per far viaggiare l'Irpinia nel mondo. Quindi che è dinamica significa che quello che fa Riano lo deve sapere Avella, quello che fa Avella lo deve sapere Mirabella e tutto il resto. Oggi noi siamo privi di tutto. Non abbiamo i servizi di informazione accoglienti sul territorio, quindi quello che oggi fa Casalbore con l'app, ma se la possono tenere l'app all'interno della comunità che è essenziale per dare un servizio ai cittadini, ma fuori da Casalbore nessuno sa nulla. Questo rientra nel concetto della fondazione per cui lei sta lavorando. Noi dobbiamo, giovedì c'è il primo consiglio provinciale dove io ho detto anche ai miei responsabili voglio che ci sia una diretta Facebook su questo consiglio perché così come siamo abituati noi social, perché anche io sono social, la gente deve entrare nel Palazzo Caracciolo. Stile grillini però Presidente. No, io ho il mio stile che quando faccio la diretta al Comune di Avella la faccio dal 2011, quindi non so se gli altri la facevano. Però è giusto che il cittadino della provincia di Avellino per comunicare con la provincia un disservizio, una strada, una scuola, un problema non deve andare tramite altre persone o se poi arriva la notizia al Presidente della provincia ma ci deve andare in una maniera diretta e quindi noi dobbiamo poi essere vicini. Parlando della fondazione, circolava il nome di Felicori, un nome importante, sappiamo che ha guidato, appunto è stato l'ex direttore della Regia di Caserta e ora della fondazione di Rabello. Ci conferma questa notizia? Ci sono dei contatti in corso? Allora ci sono dei contatti in corso personali perché ci conosciamo con Felicori, quindi c'è un rapporto diciamo di continue comunicazioni tra di noi, però non è solo Felicori. Diciamo che insieme a lui creeremo le condizioni per avere un'attenzione particolare su questa fondazione Irpinia. È chiaro che la fondazione non avrà solo Felicori, avrà tante altre personalità dell'Irpinia che si occupano di cultura e quindi che hanno diciamo già la programmazione sia culturale ma anche sul piano mediatico dell'Irpinia e sanno i prodotti che noi abbiamo, le nostre zone, la nostra storia, sanno veicolare i messaggi. Domani ho appuntamento anche con altri che si occupano della multimedialità per cui questa piattaforma dovrà partire a breve, ci sono tante cose. Secondo lei più o meno facendo un po' un cronoprogramma quali sono i tempi? Ma io ho detto sei mesi dal mio insediamento quindi approvato il bilancio noi partiremo. Con i fondi provinciali? Sì. Presidente sul turismo poi in generale si inserisce anche quello religioso che mi sembra è un aspetto a cui lei tiene tanto. Proprio in questo caso recentemente è stato proprio qui in Valle Ufita per anche la Basilica di Carpignano. Un potenziamento lo vede anche appunto in Valle Ufita? Allora c'è un problema di comunicazione, io ho la mia competenza sulla viabilità e per Carpignano io ho promesso un intervento per un investimento che vada ad eliminare quel tornante che c'è proprio prima della Basilica dove c'è la difficoltà da parte dei pullman dei veicoli di grossa portata per arrivare fino alla Basilica. Per cui è lì che c'è un intervento di quasi un milione di euro dove io ho dato la disponibilità in questo bilancio per poter intervenire o con fondi provinciali o con fondi regionali. Quindi cercheremo comunque di fare un investimento là per quello che è di nostra competenza. Oltre non possiamo fare. Traforo. Il traforo sta creando dibattito, ci sono già le prime spaccature. Intanto mentre l'ultimo no, quello appunto più recente, arriva dall'amministrazione di ospedaletto, ha incassato il sì di Confindustria che comunque appoggia il progetto. No, io forse non riesco a capire che c'entra di ospedaletto. Oppure qualche giornalista che dice che il traforo di Montevergine. Che c'entra Montevergine con questo traforo? Cioè cerchiamo di capire piuttosto, noi dobbiamo conoscere l'Irpinia prima di poter esprimere un concetto rispetto all'opera che si va a fare. Se io parlo di Lioni Grottaminade e vengo qua, io conosco o no il collegamento di Lioni Grottaminade, oppure parliamo di un'area dove io non conosco neppure dove si vanno a fare questi trafori della Lioni Grottaminade. Allora, Montevergine è una località, la bassa Irpinia è altra località. Cioè fare il passaggio a Sirignano, tra Sirignano e tra Cervinara e Rotondi e fare il traforo di 3,9 km non ha nulla a che vedere con il santuario di Montevergine e con lo ospedaletto. Qui non c'è assolutamente nessuna attività, nulla di… Lei dice la geografia è essenziale. Brava, esatto. Quindi stiamo parlando di altre cose. Quindi significa che per l'area della Valle Caudina, per poter andare sull'A16 e quindi ritornare ad Avellino, su 3,9 km, 4 km si trovano sull'A16. A16 e Avellino sono praticamente un quarto d'ora di auto, cosa che invece loro ci impiegano quasi un'ora per arrivare ad Avellino Città. Quindi e poi ma perché è nata questa proposta? Perché appena ho avuto l'insediamento mi è stato subito sottoposto questo grande problema del piano d'ardine Valle Caudina, dove era ferma da anni questa bratella e quindi mi fu detto Presidente si occupi un poco di questa bratella. Io l'ho fatto, mi sono portato a Napoli più volte in Regione Campania, dove insieme anche all'Asi abbiamo tirato fuori questo progetto del 2005 fatto in conferenza dei servizi provincia e Asi con tutti i pareri. Io attraverso il Presidente Cascone ho portato questo progetto e ho detto qui c'è l'esecutivo, vogliamo che si vada avanti su questo progetto e ci sono i fondi. Immediatamente in verità la Regione Campania ha dato l'ok e è stato anche consegnato, abbiamo fatto questo verbale e in quel verbale io ho detto se facciamo il terzo lotto che sono da 80 milioni di euro e che comporta quindi l'arrivo fino alla Valle Caudina e quindi fino a Cervinara, è chiaro che noi dobbiamo fare anche il quarto lotto. Dunque Presidente sono pochi poi i chilometri in questione? Sono 3 chilometri e 9 ma ripeto è ancora un piano di fattibilità che si deve fare, quindi siamo ancora in un'ipotesi, per questo io venerdì mi incontrerò con il territorio dove sarà il territorio a decidere. Io non è che ho un qualcosa di particolare per questo trafora. Tra l'altro la bassa Irpinia, il baianese è già molto collegato con la parte dell'Avelinese che va verso il Salenitano, il Casertano, Napoli, c'è anche l'area ferroviare. Noi non abbiamo questi problemi, però è bene anche mettere in funzione la parte della Valle Caudina che vada ad innestarsi su una parte della provincia di Avelino e quindi finalmente dovremmo essere insieme messi in un territorio comune. E le perplessità degli ambientalisti cosa potrebbe dire loro per l'appunto? Vabbè ma gli ambientalisti hanno sempre queste perplessità in ogni traforo. E' giusto però rassicurarli o no? Ma sicuramente saranno rassicurati perché non è un traforo che si farà così. Ci vuole un piano di fattibilità, c'è bisogno di una conferenza di servizi, ci vogliono le relazioni, gli studi appropriati che vanno a compensare anche eventuali opere di investimento per il traforo. Per cui sicuramente saranno adottate tutte le misure a salvaguardia di tutto. Tra le infrastrutture anche recentemente insomma gli è stata risottoposta la questione della manna camporeale? Sì anche quella sì mi è stata sottoposta e noi credo che ci occuperemo anche di quella c'è già un finanziamento, ve lo sapete, che sono 20 milioni, mi pare 25 milioni di euro abbiamo già dato l'assegnazione all'impresa che è stata già giudicataria dopo vari ricorsi Consiglio di Stato eccetto quello che c'è stato, abbiamo fatto una riunione proprio qualche settimana fa, credo che stanno solo depositando gli atti al genere civile quindi credo che fra non molto inizieremo. Proprio notizia dell'ultima ora, c'è stato questo, nel prossimo sblocca cantieri rientrerà anche la Lioni Grotte, insomma il governo poi ha deciso cosa fare, però comunque sarà la regione Campania a gestire l'opera? Speriamo di no, speriamo che sia il territorio a gestire l'opera, io proprio per questo vorrei chiedere al governo di assegnare il controllo di queste opere non alla regione Campania ma di assegnarle alle province, dove sicuramente la provincia può avere un ruolo importante e da grande tradunione tra le aree, i comuni e quindi può sicuramente apportare un valore di professionalità molto adeguato, importante e quindi su questo secondo me il governo sbaglia nell'affidare alle regioni l'assegnazione di questi commissariamenti. E la provincia come sta messa in questo momento avrebbe la forza per gestire una grande opera? Perché non gestiamo 1600 chilometri di rete e non possiamo verificare quante opere noi facciamo per il territorio messo in sicurezza, quante scuole noi abbiamo, e beh se oggi si vuole considerare di nuovo la provincia così come il governo la sta considerando perché c'è una modifica per ritornare e abolire insomma la del rio, il governo potrebbe puntare sulle province proprio in questa occasione. Voltiamo pagina, parliamo un po' di politica, giusto in ultima battuta. Lei anche a noi ci ha sempre detto che è un uomo del centrodestra, però non ha mai espresso poi in maniera chiara se aveva o no qualche simpatia particolare. Il centrodestra ad Avellino, quali umori lei percepisce in vista delle elezioni? Guardi, io vedo un centrodestra ad Avellino forte, anche in provincia di Avellino forte, ma non vedo un centrodestra unito. Quindi questa forma di divisione che c'è mette nella condizione questo centrodestra di non affrontare gli impegni elettorali in una maniera adeguata per ottenere dei risultati importanti. E quindi quello che da poco sto in provincia e quindi posso dire che posso dare la mia disponibilità affinché si possa affrontare il discorso centrodestra in una maniera con una visione abbastanza lunga. Bisogna iniziare a fare politica, a mettere il territorio al centro a prescindere dalle bandierine. Allora, appena dopo le europee, appena dopo le amministrative, si incomincerà a parlare di politica, ma mettiamo la politica al centro, costruiamola intorno ad un soggetto di un'associazione politica che si occupi di un laboratorio che si possa occupare dell'Irpinia e poi all'interno di questo laboratorio possiamo fare entrare tutti, tutti quelli che oggi vogliono dire la loro e vogliono proporre problemi che ci sono per l'Irpinia e come possibilmente risolverli. Su questo noi dobbiamo partire e dobbiamo rilanciare quest'area dove facciamo far politica alla gente e ritornare la politica al territorio. Quindi questo è il mio obiettivo, a prescindere dai contenitori, a prescindere dai ripartiti, perché oggi il contenitore è importante. Insomma, sono stato in radio poco fa e mi è stato detto la Lega. Allora, io sono per i contenitori che sono vicini al territorio. Quindi se questo partito oggi è vicino al nostro territorio e cercherà di trasmettere i nostri problemi, di abbracciarli e risolverli uguali come l'impegno che ci mette il Presidente della provincia, così come lo potrebbe fare un partito politico che potrebbe essere la Lega o Forza Italia, allora va bene. Ma se questo contenitore politico non rispecchia invece quello che noi sentiamo della provincia di Avellino, allora vuol dire che c'è distanza tra noi e questo contenitore. Noi dobbiamo dire la nostra, dobbiamo fare politica, poi dovremmo essere noi bravi a scegliere il contenitore. Aderiano, com'è la situazione? C'è un dialogo difficile fra diverse anime del centro-destra? Anche qui ci sono comunque diverse anime che magari non stanno dialogando come dovrebbero. Sì, non stanno dialogando come dovrebbero, però devo dire la verità che non c'è quest'anima diciamo cattiva nel non dialogare. E' costruttiva insomma. Sì, c'è interesse da parte di tutti di stare insieme e se posso fare qualcosa io ho dato la mia disponibilità insomma di poter mediare, di essere a disposizione delle parti per trovare una soluzione. E non nascondiamo insomma i fatti qui ad Ariano, cose importanti sono state fatte diciamoci la verità. Lo sviluppo di questa area è sotto gli occhi di tutti. Investimenti grossi ci sono, c'è la politica qui ad Ariano e nella Valle Ufida, ha pensato alle infrastrutture ma ha pensato alle infrastrutture in grande. Non stiamo pensando a piccole opere. Questo lo si può fare quando si tiene alta la politica, quando il profilo della politica è una politica professionale dove si vede lontano e Ariano ha avuto rappresentanti che in politica hanno visto lontano. Anche il centro-destra ha dato questa sensazione. Oggi deve continuare diciamo a dare questa sensazione di lungimiranza con grande responsabilità lo deve fare e quindi anche il candidato sindaco che sia diciamo attuale sindaco deve dare anche lui un segnale di diciamo di grande lungimiranza e quindi il senso di unità lo si dà a 360 gradi e bisogna collaborare tutti quanti insieme. Dunque Gamba Corta secondo lei può essere ancora il sindaco giusto per il Tricolle? Per me sì, per me sì vedo diciamo una persona competente lo sappiamo tutti però deve creare le condizioni di avere una collegialità diciamo maggiore non tralasciando nessuno perché oggi tutti sono importanti in una visione complessiva di un progetto che Ariano deve esprimere e quindi bisogna essere più disponibili verso tutte le forze politiche creare le condizioni quindi di una sintesi però reale e poiché c'è la possibilità perché la vedo la intravedo, nessuno parla in una maniera diciamo distruttiva per cui in questi giorni ci adopereremo e speriamo bene. Grazie Presidente Biancardi e fate un piacere a ospitarla e grazie ovviamente ai nostri telespettatori per la loro attenzione. Alla prossima Password. Grazie a tutti. Grazie a tutti.